Allora, lo so, tu vuoi guadagnare online, per forza, è bellissimo guadagnare online, hai ragione, guadagnare online è bellissimo perché ti svegli la mattina con calma, apri il tuo pc, guarda io sono, addirittura ho un ufficio, guarda sto lavorando, vabbè ora ho messo in pausa perché devo registrare questo video, però guardate che bello, che bello, è tutta un'altra vita, lì c'è l'aria, relax, il mio ufficio, come l'ho fatto? Grazie all'online, ed è una qualità della vita assurda, ti svegli con calma, decidi oggi lavoro a questo progetto, domani a quest'altro, non è meraviglioso, non è meraviglioso avere, diciamo, la padronanza del proprio tempo, bene, però sti cavolo di progetti, li dovete mettere in piedi, non è che dovete cercare il trucchetto o il metodo per guadagnare così online, dimmi una cosa veloce, non è questo, dovete costruire qualcosa di serio ed è importante, di serio e di importante, che offra del valore al mercato e c'è una cosa che stai ignorando e che è sotto i tuoi occhi, che è imbarazzante, ti voglio rivelare in questo video, tu hai degli strumenti che ti possono far guadagnare online, se costruisci qualcosa di importante, adesso ti spiego tutto, ce le hai sotto gli occhi, sono online, sono gratuiti e puoi partire rimboccandoti le maniche, senza budget, puoi partire senza budget, ma devi innanzitutto capire una tua competenza, qualcosa in cui tu sei bravo e che ti viene facile e agli altri no, ce l'abbiamo tutti, qualcosa in cui, qualcosa che sappiamo fare e che ci viene facile e per gli altri è tremendamente difficile, bene, quando hai individuato quella competenza, quella passione, ci devi costruire intorno a un brand e devi cominciare a creare contenuti, contenuti che possono essere video, quindi aprire un canale YouTube, anche senza metterci la faccia, puoi creare un brand e puoi aprire un canale YouTube, fare video o anche una pagina Instagram e fare post, ok? e attrarre gente che è in linea, che possono essere potenziali clienti, che sono interessati a quel problema e poi gli devi offrire la soluzione e come soluzione non è che devi aprire un e-commerce, comprare prodotti fisici, magazzino, investire 10.000 euro in uno stock, no, fermati, devi creare dei prodotti digitali che puoi creare con il tuo computer online, ok? da dove vuoi nel mondo, poi ti puoi anche ampliare, prendere un ufficio oppure lavorare in giro per il mondo, lo decidi tu, ma creare prodotti digitali che ti costano zero, metti, diciamo, crei delle guide, dei corsi, dei PDF che praticamente risolvono dei problemi, vai nello specifico, pacchettizzi le tue informazioni, informazioni che tu hai possono essere importanti per gli altri, la gente lo sottovaluta, ignora tutto questo, non è poi così intuitivo dire, vabbè, ma per me mi sembra naturale, ciò che è naturale per te può essere, diciamo, utile per altri e ci possono essere un sacco di persone disposte a pagare per quelle informazioni, quindi tu crei un blog anche, crei un canale YouTube, crei articoli, crei video, crei dei prodotti digitali, crei delle offerte e guadagni online e puoi guadagnare sia dalla vendita dei prodotti digitali ma poi se il tuo canale YouTube cresce puoi guadagnare dalle visualizzazioni, da tutto ciò che comporta il canale YouTube, se apri un cash cow channel, puoi fare anche delle sponsorizzazioni se il tuo canale cresce, ci sono mille opportunità che nascono però da una tua competenza, da un tuo canale YouTube, da un tuo blog, puoi creare anche libri a nome del tuo brand e quindi metterti su Amazon e guadagnare dai libri e tutto questo ti fa guadagnare e tu sei partito da zero semplicemente dalla tua competenza. Ora, in un video così non posso spiegarti come fare passo passo, però ho una buona notizia per te, ho creato un corso gratis, di un'ora gratis, dove ti spiego passo passo come puoi mettere in piedi questo modello di business basato su YouTube, il canale YouTube è gratuito, lo apri e inizi a guadagnare, sui prodotti digitali, sul blog, anche il blog è l'unica cosa, ti costerà 100 euro l'anno, ma gli articoli, le affiliazioni, c'è un mondo per guadagnare, ma i soldi grossi ripeto li farai vendendo i tuoi prodotti digitali, ti spiego tutto in questo corso gratuito di un'ora, trovi il link qui sotto, vai su corsogratis.michelemaraglino.com, lì ti spiego il modello che è tutto questo che ti ho detto, è quello che faccio io, vedi questo è l'ufficio della mia casa discografica, vedi la fame di ischi, dovrebbe esserci lì lo stemma, questo qua nero, la fame di ischi, questo sono io che canto perché sono un musicista, ok? E' un musicista che poi si è accorto che era bravo a promuoversi da solo, quindi ho aperto il mio ufficio stampa, ok? La mia competenza è promuovere la mia musica, poi ho visto che ero bravo a promuovere anche la musica degli altri, quindi la mia competenza è promuovere musica per band indipendenti. Che cosa ho fatto? Dopo che ho iniziato a lavorare, semplicemente facendo questo lavoro, mi sono detto, ma io posso insegnare ai musicisti questa cosa di promuoversi da soli? Per tutti quelli che vogliono fare da soli e non vogliono che io promuovo loro. Quindi che ho fatto? Alla fine del 2016 ho aperto un canale YouTube, Michele Maraglino Musica, poi andartelo a vedere, cioè ancora mi permette di vendere i miei prodotti e servizi, videocorsi, prodotti digitali e servizi, videocorsi, consulenze per musicisti che vogliono promuoversi da soli, che vogliono aprire la loro etichetta, che vogliono aprire il loro ufficio stampa. E poi c'è anche il blog michelemaraglino.com, cioè è una roba che se hai una competenza, hai una passione, qualunque cosa, puoi farlo, certo ci vuole tempo, devi costruire, devi costruire il tuo canale YouTube, non guadagnerai nell'immediato, ma nel lungo periodo fai un investimento di tempo, non di soldi. E in più, se vuoi approfondire tutto questo, vai su corsogratis.michelemaraglino.com e c'è un corso di un'ora dove ti spiego tutto questo modello che io stesso utilizzo dalla fine del 2016 che mi fa essere libero finanziariamente, ho una qualità della vita superiore, lavoro online, quando voglio, da dove voglio, ho anche un ufficio perché le cose vanno abbastanza bene, e ti spiego tutto questo su corsogratis.michelemaraglino.com Vai subito e sparati quel corso di un'ora. Poi se parti completamente da zero non è finita perché alla fine di quel corso c'è un'offerta imbarazzante, regalato, dove c'è tutta la mia formazione per quanto riguarda come aprire un blog, come guadagnare quel blog, come aprire un cash cow channel, come guadagnare da YouTube, come pubblicare libri che vendono su Amazon. E c'è un'offerta imbarazzante dove ti posso seguire io, hai tutti i corsi, hai un'ora di consulenza dove possiamo insieme capire quale progetto, quale competenza tua a monetizzare, e c'è anche il primo prodotto digitale che facciamo noi per te. Ma quella è un'offerta, è un di più se vuoi essere seguito da me. Ma guardati quel corso perché lì c'è del valore, lì ti spiego tutto passo passo, faccio degli esempi, e approfondisco il metodo che dovrai utilizzare. E solo quel corso ti basta. Poi per chi vuole essere seguito, ok, ma ti consiglio, vai su corsogratis.michelemaralino.com, stacca tutto, concediti un'ora per cambiare la tua vita, guarda quel corso e mettiti a lavorare. Corsogratis.michelemaralino.com, il link è anche qui sotto, ci vediamo dall'altra parte.